Sì, in altri paesi, tra i quali in Italia, si celebra la solennità del Santissimo Corso che stava in Gesù, un po' secondo la più ronda in selezione dell'Aspaione, la solennità del Corpo Domenico. Il Vangelo ci riporta le parole di Gesù presentate nell'ultima cena con i suoi discepoli. Prendete questo è il mio corpo, poi questo è il mio santo e dell'allianza, che è lo santo per molti. Proprio perché forza in quel testamento d'amore la comunità cristiana si raduna ogni momento e ogni giorno.